Papa Francesco ha ricevuto venerdì in due separate udienze i gentiluomini di sua santità e di sediari pontifici. Attraverso di voi, cari gentiluomini, ha detto il Papa, le diverse autorità e le altre personalità che giungono in visita alla sede di Pietro hanno i loro primi contatti e ne ricevono le prime impressioni. Come dice il vostro nome di gentiluomini, servono per questo scopo doti di gentilezza e cordialità, utili a mettere a proprio agio le persone, qualità umane che trovano la loro più autentica radice in una vita animata dalla fede, che dà testimonianza di guerenza evangelica senza macchiarla con alcun atteggiamento di mondanità. Ai sediari il Papa ha chiesto di vivere sempre il lavoro in spirito di servizio e farlo diventare apostolato, dunque una preziosa occasione per trasmettere a quanti voi incontrate la gioia di essere cristiani. In questi mesi, ha concluso il Papa, mi sono reso conto degli ideali che animano il vostro lavoro. Grazie a tutti.